La situazione della permanenza dei fanghi e del materiale che è derivato dalla frana del 26 novembre scorso a Casamiccio la preoccupa i cittadini dell'area del Casale a Furio. Sindaco Verde, avete fatto una nuova ordinanza, si prevede il termine della emergenza del 26 novembre, quel materiale in parte sarà riutilizzato, avete anche predisposto un progetto di realizzare un'opera importante lì in loco. Ecco, ma la gente si chiede quali tempi, sperando sempre che non venga giù la pioggia? Allora, i tempi purtroppo della burocrazia ci stanno rallentando, noi stiamo andando il più velocemente possibile avanti. Ora, noi ci siamo trovati in questa situazione, abbiamo trovato dei fanghi che noi non avremmo mai messo in quella zona, ce li siamo trovati, muovere quei fanghi in estate in corso sarebbe stata una follia, perché avremmo creato dei disagi, immaginate le polveri che si sarebbero alzate. Ad oggi ci troviamo in questa situazione, abbiamo il casale pieno di fanghi e la possibilità di utilizzare quei fanghi in parte per delle colmate per il muro che si andrà a realizzare su via Giovanni Mazzella, in parte potrebbero essere riutilizzati in loco e quindi in questo caso ci troveremo una struttura importante per il nostro paese. Allora sfido chiunque, dopo tanti mesi di sacrificio di tutta la popolazione, ad avere i fanghi in quel posto, sfiderei chiunque a buttare tutti questi sacrifici così senza provare a creare da qualcosa di negativo qualcosa di buono per il nostro paese. Un territorio però che diciamo è lì attualmente, chiaramente è sotto un fitto, quindi c'è un costo per il comune, però intanto non per il comune ma per la struttura commissariale evidentemente, però intanto avete predisposto l'acquisizione, l'acquisto o l'esproprio? State già muovendo su una di queste due direttrici, guardando al futuro? L'idea è quella, l'idea è quella di acquistare quell'area o di procedere con un esproprio e in quel caso, come ti dicevo, da una cosa negativa per il popolo di Forio nascerà qualcosa di positivo perché creeremo un'infrastruttura con cappetti playground, con giardini, con spazi per i nostri giovani, soprattutto spazi direttamente collegati al campo sportivo di Forio, quindi allargare anche l'offerta delle nostre strutture sportive. Strutture sportive che proprio in questi giorni abbiamo presentato in giunta dei progetti per il miglioramento delle gradinate, le gradinate verranno spostate, verranno fatte delle gradinate coperte, quindi per la prima volta a Forio ci sarà un campo con una gradinata coperta per tutti, non solo per voi giornalisti, poi ci saranno tutta un'altra serie di interventi che presenteremo nei prossimi giorni, il rifacimento del manto erboso, il ripristino dell'illuminazione, la caldaia e quant'altro. Quindi regalare ai nostri giovani, ai nostri sportivi, un impianto sportivo a regola d'arte degno del nome del nostro grande Forio.